La provincia di Pesero e Urbino ha effettuato questa mattina, attraverso alcune ditte incaricate, vari interventi con mezzi sgombra neve e antighiaccio nelle zone alte del Nerone, del Metauro e del Monte Feltro, come mostrano le tante immagini che i reporter di strada ci hanno inviato un po' da tutte queste località, ad essere toccate per la prima volta quest'anno dai candidi fiocchi di neve. Nello specifico, sulla strada provinciale 15 Nerone, dove si sono registrati 10 cm di neve, sulle strade provinciali 153 Pian delle Serre, 101 Caselle e 28 Pian di Trebbio nella zona di Apecchio e poi sulla strada 21 Urbania Piobbico e sulle Cesane. Interessate anche dagli interventi degli sgombra neve anche la strada provinciale 90 Gratticcioli e la numero 1 Carpegna, come anche la 6 Monte Feltresca, però nel tratto di Putigliano. Lo stanziamento previsto dall'amministrazione provinciale fino alla fine di marzo 2019 è di 400.000 euro per attività di sgombro neve e antighiaccio. Il piano neve prevede sulle strade di competenza la possibilità di attivare, oltre al proprio personale, 63 ditte esterne con 100 mezzi sgombra neve e 65 mezzi per il trattamento antighiaccio, con una dislocazione su tutto il territorio, suddiviso in zone di intervento. La somma prevista è uguale a quella dell'anno scorso, anche se il numero di stradi provinciali è inferiore per il recente trasferimento allo stato della Metaurense, nel tratto Fermignano-Urbania, della Fogliense da Montecchio a Lunano e della Montelabattese dall'incrocio di via Solferino, via Giovanni d'Azelio a Pesaro.